Buongiorno Salve Dove deve andare? Il teatro San Carlo, per favore Nessun problema È inglese? No, sono americana Ah, parla italiano Sì, ma solamente un po' Parla bene Ah, è molto gentile di parte sua Come si chiama? Sono Monica Piacere Monica Piacere mio Parla bene Grazie mille e buona giornata Ha capito? Non si preoccupi Ascolta di nuovo Buongiorno Salve Dove deve andare? Il teatro San Carlo, per favore Nessun problema È inglese? No, sono americana Ah, parla italiano Sì, ma solamente un po' Parla bene Ah, è molto gentile di parte sua Buongiorno 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 Buongiorno